Torniamo a collegarci con il Giglio Overisiede, Nino Cirillo che ci aggiorna oggi ancora dalla prima pagina del Messaggero e l'abbiamo con noi. Nino Cirillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dunque, c'è questo mistero sulla lista dei dispersi, Nino. Ci sono le diplomazie che stanno interrogando i responsabili qui in Italia per saperne di più. A che punto siamo? Ancor più con i 19 tedeschi. Sì, ma diciamo che nella tarda mattinata dovrebbe finalmente arrivare un po' di chiarezza, da grosseto almeno. L'unità di crisi della prefettura dovrebbe finalmente darci un bilancio ufficiale, che però è molto vicino, appare molto vicino a quello che ormai viene dato da tutte le ricostruzioni, intorno ai 30 dispersi. C'è speranza, Nino, dal tuo punto di vista? Perché il ragionamento è logico. Se fossero non ancora all'interno della nave sarebbero stati già individuati, perché immagino che chi si salva da una cosa del genere, la prima cosa che fa in terra, va a cercare un centro abitato per chiedere aiuto. Sì, lì ci sono diverse considerazioni da fare. La prima è che tecnicamente c'è la speranza di trovare persone vive, nel senso che i vigili del fuoco, ad esempio i sommozzatori e anche i vigili del fuoco stessi, stanno ispezionando ampiamente la zona ancora scoperta, lì sperano di trovare ancora qualcosa. Nel frattempo hanno fatto esplodere gli incursori della marina militare, stamattina hanno fatto 3 cariche di esplosivo nella zona del ristorante per aprirsi un barco nella parte sommersa, lì c'è sicuramente meno speranza. Però è anche vero che se ci facciamo un calcolo sono passate 80 ore dal naufragio e l'unica possibilità è, siccome è gente che è scesa da quella nave senza un documento, senza un telefonino, magari senza soldi, la speranza è che abbiano trovato un'estrema difficoltà a raccapezzarsi e che quindi poi da qualche parte si trovino. Giusto, 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 speriamo sia così. Rischi che la nave affondi, Nino, perché leggevamo anche della possibilità, quando ieri si è mossa, che potesse indirizzarsi verso quel famoso scalone che la porterebbe a 70 metri. Sì, purtroppo i rischi ci sono e sono gravi. Ieri sera lo stesso comandante generale dei vigili del fuoco diceva che il rischio di perdere la nave c'è. Tieni conto che questa mattina è una giornata di sole e siamo a martedì e dovremmo avere anche domani una giornata buona, mentre invece il peggio dovrebbe cominciare a giovedì. Giovedì addirittura si prospetta un mare totalmente grosso che potrebbero rischiare di interrompere i collegamenti tra qui e la terraferma. Ecco, insomma, il fine settimana potrebbe essere veramente terribile per la nave. Speriamo che si risolva prima, quantomeno per il recupero delle persone che sono tutt'oggi disperse. Prima di lasciarti voglio segnalare anche la preziosità del lavoro che stanno svolgendo questi soccorsi e lo imparo proprio dal tuo articolo di oggi. Per esempio hai descritto il comandante Gioino Di Rocco, no? 44enne di Tivoli, no Nino? Raccontala queste cose. Beh, sicuramente è uno degli eroi di queste giornate, insomma, uno che con un elicottero va lì, si cala, i sei perricelli che partono, il pattino che tentano di far scendere, insomma un'operazione di salvataggio di 12 sommozzatori in un momento d'emergenza, in 5 minuti, insomma è stato veramente un esempio. C'è anche di questo nel frangente, quindi teniamone conto, questi uomini che vanno portati in luce, perché veramente sono importantissimi. Nino, ti ringraziamo moltissimo della tua generosa disponibilità. Grazie a voi, buon lavoro. Nino Cirillo del Messaggero.